L'ASCOM Torino Provincia, Presidente Maria Luisa Coppa, presenta una nuova piattaforma dedicata all'e-commerce. Esattamente, noi è da anni che lavoriamo con le nostre categorie, quindi abbiamo molte categorie online. Oggi è il turno delle gastronomie, quindi i gastronomi con un prodotto di alta qualità, che è quello delle nostre gastronomie torinesi e piemontesi, si mettono online per avere naturalmente una platea di clienti più ampia, ma anche per proporre quelle che sono le specialità delle loro aziende e non solo, ma con la possibilità anche di portare il prodotto a casa, quindi un servizio in più. E in questi anni, questo è un dato che voglio dire, le gastronomie torinesi stanno aumentando. aumentando gastronomie torinesi e piemontesi, perché naturalmente si aggiungono a quelle tradizionali quelle più giovani, più con prodotti adeguati, tipo vegani, vegetariani, eccetera, che insieme alla grande professionalità e alle grandi tradizioni delle gastronomie rendono il nostro territorio naturalmente molto, molto elevato dal punto di vista enogastronomico e dal punto di vista innovativo. In particolare questa piattaforma a chi è pensata, a chi è dedicata? È dedicata certamente alla clientela abituale delle gastronomie, ma è dedicata anche ai giovani, anche a proposte decisamente più fresche, perché le gastronomie non sono luoghi esageratamente cari o esageratamente privilegiati per un settore particolare. No, le gastronomie sono uno strumento estremamente importante per chi lavora, per chi ha fretta, per chi invece, per un mondo giovane che ha bisogno di risposte alla quotidianità, naturalmente risposte che vanno verso l'estrema qualità. L'esperienza enogastronomica viene fruita attraverso una piattaforma web, nella quale non si trovano soltanto i prodotti, ma si trovano anche una serie di informazioni che caratterizzano ogni singolo piatto presente sulla piattaforma, in modo che l'esperienza possa essere fruita dal cliente in modo puntuale, scegliendo cosa prendere, dove prenderlo, in funzione dei propri gusti. Inoltre, Nanà rappresenta un volano per queste realtà di piccoli laboratori del gusto e di botteghe artigiane, perché senza far loro cambiare il loro modo di lavorare, possono dargli l'opportunità di vendere a una più vasta clientela durante le 24 ore. Con la piattaforma web, in qualunque momento, in comodità, posso scegliere il prodotto, posso acquistarlo, posso farmelo recapitare al domicilio, all'ora e al giorno in cui desidero, su tutto il territorio attualmente della città di Torino, dove abbiamo 12 punti vendita in questo momento affiliati, che rappresentano l'esperienza storica della città. In che modo funziona concretamente? Concretamente, l'esercizio riceve, attraverso un sistema basato su una app nel proprio negozio, l'incarico, che sostanzialmente è l'ordine che il cliente ha inserito sul web. Attraverso un continuo scambio di informazione, automatico, tra il punto vendita e il cliente, viene tracciato il percorso di presa in carico, di in lavorazione, di pronto per il ritiro, in modo che così, in ogni istante, il cliente sa in che stato è la sua richiesta. Quali sono i tempi di consegna? I tempi di consegna variano in funzione della distanza dal punto vendita, può essere dal quarto d'ora all'ora, all'ora e mezza, e comunque sempre all'interno dei tempi necessari a mantenere l'integrità del cibo, secondo le norme HCCP.